Con lettera del 25 ottobre Cinelandia comunica di aver esercitato la facoltà di recesso dal contratto di locazione del cinema multisala come legittimamente previsto dal contratto. Così in una nota oggi la società, società che lamenta l'assenza di tempi certi sul completamento dei lavori per il palazzetto dello sport. Insomma, per chiarire, al momento il nuovo palasport di Cantù non avrà sale di proiezione del gruppo Cinelandia, anche se si lascia aperta una possibilità. In sostanza, come detto, la decisione è legata all'allungarsi dei tempi. Da mesi infatti non vi sarebbero rapporti con l'azienda che sta eseguendo i lavori. Il nostro contratto prevede la consegna del cinema entro il 30 aprile 2013, si legge. Non avendo contatti con Turra da luglio, Cinelandia ha già sviluppato altre ipotesi, sia a Cantù che in altro comune. Secondo indiscrezioni, sembra che la società stia avvolgendo di nuovo lo sguardo a Como, nello specifico agli spazi dell'ex Europlex di Camerlata. In questo senso, ma al momento non vi sono conferme ufficiali, sarebbe previsto un incontro a Palazzo Cernezzi la prossima settimana. Come detto però, Cinelandia non abbandona definitivamente il progetto iniziale. Le porte restano aperte nei confronti di Turra e del palazzetto, si legge ancora nel comunicato, ma serve una tempistica certa e trasparente. Ci auguriamo che la nostra presa di posizione possa agire in tal senso affinché anche la palacanestro Cantù, con la quale abbiamo rinnovato l'accordo di sponsorizzazione, possa pianificare il lavoro. Grazie a tutti.